Buona giornata, prima edizione del TV giornale di Telestense di lunedì 27 marzo. Come sempre tante le notizie, ci occuperemo di cronaca con la denuncia di quattro giovanissimi per la tredicenne aggredita a Comacchio. Parleremo poi di politica, sia con il Movimento 5 Stelle che ha protestato contro il caro teleriscaldamento, ma anche con Fratelli d'Italia che ha fatto un'analisi dei primi quattro mesi del governo Meloni. E poi ancora parleremo della conferenza che si trà oggi pomeriggio curata da Dalia Bighinati dedicata a Rita Levi Montalcini alla biblioteca Riostea. Spazio poi all'Art Bonus, al via il restauro delle statue del ponte di San Giorgio e poi altre notizie tra cui le giornate fai di primavera ed altre notizie, appunto, altri avvenimenti accaduti durante l'ultimo weekend. Ma cominciamo subito parlando di banche, perché da anni sono sempre meno gli sportelli bancari nel Ferrerese, fenomeno che accomuna tanti luoghi e in particolare, soprattutto nelle zone più remote, si lamenta da tempo l'assenza di sportelli Bancomat. Vediamo. Dopo la scomparsa di Carife e l'acquisizione di Caricento da parte di Credem, l'unica azienda di credito con sede nella provincia di Ferrara è rimasta a Banca Centro Emilia. Gli istituti di credito presenti in totale nella provincia estense da 28 sono passati a 21 e in provincia di Ferrara gli sportelli bancari erano 209 a fine 2017, prima della scomparsa della Cassa di Risparmio di Ferrara, ora sono scesi a 129 e nel comune di Ferrara si è passati da 79 a 44. Sono questi i freddi numeri che certificano, come è stata chiamata, una desertificazione bancaria. Questo è il quadro tratteggiato nel corso del 22esimo congresso provinciale ferrarese della Fabi, la federazione autonoma bancari italiani, emorragie di sportelli che porta a servizi sempre meno accessibili, soprattutto per chi non riesce a essere al passo con il cambiamento e l'avanzare della tecnologia. Oltretutto, come detto, viene sempre meno il motore per lo sviluppo locale e la banca perde il suo ruolo sociale di sostegno allo sviluppo delle zone più fragili. Sostengono da Fabi, le banche devono tornare a essere il punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del territorio, giungono dalla federazione che si dice pronta a battagliare anche per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 280 mila lavoratori bancari italiani. E dunque la cronaca adesso è stato scalpore e preoccupazione una settimana fa il video che circolava su WhatsApp della tredicenne parmense e si è aggredita da coetanei al centro commerciale di Comacchio. Dopo le indagini, i carabinieri di Comacchio hanno denunciato in stato di libertà alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna i quattro presunti responsabili. Ai giovanissimi, ricordiamo che sono tre femmine e un maschio, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, sono stati contestati in concorso tra di loro i reati di percosse e violenza privata aggravata. La giovanissima era stata presa letteralmente per i capelli e poi colpita con calci. La scena, poi ripresa col cellulare, era stata poi diffusa via social. E torniamo sulla protesta dei cittadini ferraresi contro il caro teleriscaldamento riscontrato da un anno a questa parte. Sabato in piazza c'era anche il Movimento 5 Stelle. A questo punto dunque sentiamo la posizione attraverso l'intervista alla consigliere Mantovani. Una protesta contro era anche il Movimento 5 Stelle a fianco dei cittadini? Questa è una delle proteste che consideriamo anche un totem del Movimento. Finalmente vedo una risposta a livello proprio popolare, ci siamo accorti di quella che è quella gran presa in giro della geotermia ferrara, dove in realtà il calore geotermico risalendo da 1,8 km di profondità vale solo per il 39%. Il resto 18% circa per gas, dopo i dati ovviamente sono un po' diversi, anche ho sentito da rete civica ma oscillano poco. E poi soprattutto il calore prodotto dall'inceneritore. Per cui francamente io l'ho sempre visto come un gran business per arrivare a prendere fondi pubblici, spacciandolo come fonte rinnovabile, anche europei e poi soprattutto il business dell'inceneritore. Il problema qual è? Che in questa maniera era che fa monopolio. Tu quelle 25 mila utenze difficilmente riescono a staccarsi. Io ho un condominio dove tra i 2020 e i 2021 e quell'esercizio si è passati da circa 19 mila euro di bolletta a 41 mila euro, quindi un 110% di aumento, che non si riesce a giustificare. Perché posso dirlo da vetero marxista? Questo è, scusate, in sintesi, il neoliberismo, il mercato libero. Cioè appena si ha paura di perdere una merce, si alza il prezzo perché c'è l'attenzione e alla fine dal produttore al distributore si perde il controllo. Alcuni governi non hanno minimamente pensato di mettere un price cap, una cambiazione dei prezzi e si è visto cosa è successo. E intanto, sempre sabato, si è tenuta la conferenza al Circolo Cesare Gaiani di Argenta dedicata ai primi quattro mesi del governo Meloni. L'incontro è stato aperto da Nicola Fanini, coordinatore di Fratelli d'Italia Argenta e presidente di Gioventù Nazionale Provinciale, intervenuti come relatori i parlamentari ferraresi Mauro Malaguti e Alberto Balboni. Oltre alla politica nazionale si è toccato anche quella locale, con obiettivo le prossime comunali 2024, in cui Fratelli d'Italia punta al sorpasso del centro-sinistra. Argenta, detto Balboni, è un fiore all'occhiello, il circolo più forte e organizzato di tutta la provincia di Ferrara. Balboni ha aggiunto che non ci faremo imporre niente da nessuno perché rappresentiamo il 30% degli elettori di questo comune. Adesso invece cambiamo argomento, spesso a livello di cronaca riportiamo episodi di truffe, soprattutto nei confronti degli anziani, ma possono esserci anticorpi come questo fenomeno generato. dall'informazione. Per questo la campagna Io non ci casco, trasmessa anche da Telestense, sta avendo un buon riscontro anche in termini di presenze agli incontri organizzati dal comune di Ferrara. Vediamo. Sono state quasi 150 le persone beneficiari e degli spunti emersi al termine della prima settimana di appuntamenti nel giro di presentazione di Non ci casco, la campagna a contrasto delle truffe agli anziani messa in campo dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Ferrara dopo l'incontro inaugurale a Montalbano venerdì 17 marzo, partecipazione anche a Corlo e Barco, dove le persone non sono a corse solo per ascoltare suggerimenti utili ad evitare spiacevoli situazioni, ma anche per condividere le proprie esperienze. Come sottolineato dall'assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, a campagna è nata con l'idea di dare a più cittadini possibili gli strumenti per riconoscere e bloccare quei fenomeni come truffe, borseggi e raggiri sia di persona che online. Dopo l'illustrazione dell'azione adottata dall'amministrazione a cura dell'assessore Coletti e del vice sindaco Lodi, sia a Barco che a Corlo sono intervenuti operatori della Guardia di Finanza, oltre che il presidente di Conf Consumatori Ferrara Antonio Frascerra, a concludere le giornate in dialetto come forma di linguaggio più immediato, la rappresentazione della compagnia Insieme per Caso, che ha messo in scena tre sketch con alcune delle truffe più comuni, il furto del bancomat, il tentativo di estorsione di denaro attraverso un finto incidente accaduto a un familiare con l'assicurazione scaduta e il reggiro del fantomatico tecnico della caldaia. Suggerimenti poi sono scaturiti anche dalle riflessioni dei partecipanti che hanno segnalato alcuni episodi come email di istituti di credito fittizi che chiedono dati personali, sms che invitano a consegnare soldi in quanto parenti ricoverati in ospedale e bisognosi di cure costose e poi telefonate con numeri esteri nel tentativo di prelevare una grossa quantità di denaro o tentativi di furti a domicilio, in alcuni casi riusciti con i malviventi che hanno generato panico nei malcapitati adducendo a fughe di gas. E adesso un appuntamento per oggi perché sarà dedicata la figura di Rita Levi Montalcini, donna scienziata, novella della medicina, la conferenza di Dalia Bighinati in programma alle 17 nel pomeriggio alla Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea. L'incontro sarà introdotto da Daniela Cappagli, rientra nel ciclo I colori della conoscenza, i linguaggi e le arti a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. E la conferenza, ricordiamo, potrà essere seguita anche in diretta video sul canale YouTube Archibiblioweb. Rita Levi Montalcini, neuroscienziata e unica donna italiana, vincitrice del premio Nobel per la medicina, senatrice della Repubblica, ricercatrice e professoressa, ha aperto strade, prima di lei, inaccessibili nella esplorazione del cervello umano con impatti straordinari nella ricerca medica e farmacologica di malattie come l'Alzheimer, i tumori e il Parkinson. Appuntamento dunque oggi pomeriggio, Biblioteca Ariostea. E parliamo adesso di Art Bonus, Alvia il restauro delle statue settecentesche del Ponte di San Giorgio, ma per i dettagli vediamo il servizio. Alvia, grazie all'Art Bonus, le donazioni liberali per la tutela del patrimonio, attivato dalla Giunta di Ferrara, il restauro delle statue del Ponte di San Giorgio. Il cantiere si è insediato in settimana, finanziato dalle imprese CNA per 5.000 euro in contributi delle associate e 10.000 euro come sponsorizzazione tecnica da parte dell'azienda di Ferrara che realizzerà l'intervento. Installati i ponteggi e già fatte le prime azioni di pulitura, il restauro durerà circa due mesi, condizioni meteo permettendo. Le statue di San Giorgio potranno così tornare a mostrarsi nella loro pienezza, a circa 30 anni dall'ultima azione di mano d'opera, dice l'assessore Andrea Maggi, che ringrazia CNA. Con l'Art Bonus è stato finanziato il restauro anche del teatro anatomico a Palazzo Paradiso, quello della statua di Savonarola, il recupero nel stile rinascimentale del giardino di Palazzo Schifanoia, che a breve si mostrerà in tutto il suo splendore. Riscontrabile nelle fonti già dal XIV secolo, come originario ponte in legno, dal 1682 è documentato il rifacimento in mattoni del ponte di San Giorgio, mentre nel 1786 fu abbellito ai quattro angoli dalle statue. Le opere raffigurano i comprotettori di Ferrara, San Giorgio, San Maurelio, San Rocco e San Filippo Neri. La presenza delle prime tre statue sembra legata alla protezione per le ondate di peste registrate tra 6 e 700 San Filippo Neri. Era invece giudicato dai ferraresi il protettore sopra le acque e i danni provocati dalle inondazioni nel territorio giustificherebbero la realizzazione di una statua sul ponte dedicata al Santo. È deluto nel mondo del cinema perché all'età di 77 anni è morto il noto attore e regista Ivano Marescotti. Nato a Bagnacavallo in Romagna, terra a cui è sempre rimasto profondamente legato, nella sua carriera ha interpretato oltre 50 film. Fu interprete a teatro della Lunga Notte del 43, spettacolo ispirato all'omonimo film di Florestano Vancini e del racconto Una Notte del 43 di Giorgio Bassani. In tanti sono a ricordarlo in queste ore, sia nel mondo dello spettacolo, ma anche in quello della politica, dove l'attore era stato impegnato per alcuni anni. E ormai da mesi stiamo seguendo il fenomeno della siccità che colpisce fortemente anche il ferrarese. In settimana in particolare si è celebrata la giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo e il gruppo ERA ha fatto sapere quanto intende investire nel ciclo idrico. Vediamo. Previsto più di un miliardo di euro di investimenti nel ciclo idrico e quanto ha comunicato ERA in occasione della giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo, multiutiliti che serve acqua a 250 mila ferraresi e in tutto a 3,6 milioni di italiani in circa 230 comuni. Nel recente piano industriale presentato ha previsto più di 130 milioni di euro all'anno di investimenti, il 30% in più rispetto alla media, dicono da ERA. Diversi progetti tra cui anche il miglioramento di strumenti come le scansioni satellitari e i raggi cosmici per contrastare il fenomeno delle perdite occulte dalle reti idriche oppure migliorare l'analisi previsionale che grazie al supporto dell'intelligenza artificiale consente di individuare i punti della rete idrica a maggior rischio di rottura così da pianificare meglio gli interventi necessari. Prendiamo di una domenica speciale, quella di ieri al Parco Urbano quando una ventina di modellini di barche a vela provenienti da tutta Italia si sono sfidati nelle acque del Parco Bassani nel Trofeo Primavera organizzato dal gruppo modellisti ferraresi. Vediamo com'è andata. All'interno del Parco Urbano stiamo svolgendo la seconda tappa del campionato Primavera in compagnia del gruppo RC Vela o con la nostra collaborazione del gruppo modellisti di Ferrara e quindi adesso stanno correndo la classe IOM e poi successivamente a loro alternandole con la classe M che è una classe un po' più grande, un po' più impegnativa più veloce, anche quello sempre in base al vento praticamente ci sono due comandi uno è quello del timone che serve appunto per dare la direzione alla barca e dopo le vele quindi con un vericello si comandano le vele quindi si lasca o si cazza, quindi si molla o si tira le vele in modo che loro... che poi quello è il motore effettivo della barca ecco, giudice di gara, ve lo presento, è Alessandro Battistone che ogni volta nei campionati è il suo compito essere anche imparziale nel dare eventuali penalità e controllare che tutti i regattanti insomma siano corretti uno con l'altro anche per poi un quieto vivere ed evitare poi discussioni insomma, lo faccio un po' da paziente diciamo aggressività c'è sempre è un campionato ed è inevitabile che si può... però senza un giudice di gara probabilmente ognuno farebbe un po' quello che vuole il giudice di gara serve appunto a regolare la cosa è il più imparziale possibile, difatti per me sono tutti uguali sì, adesso stavano correndo le Iomme adesso la prossima ancora Iomme, poi passiamo all'altra categoria che è la M, che sono le barche visivamente più grandi sì, un po' più grandi e qua delle volte appunto giriamo sia con delle vele storiche normalmente quasi tutte le domeniche, delle volte anche i sabati a meno che non siamo fuori a fare dei campionati che anche con dei modelli elettrici quindi da qualche sommergibile, dei peschereci, rimorchiatori tutta una serie di barche che vanno con motore elettrico e sono sempre riproduzioni fedeli alla reale, a quella vera portate in scala e vengono costruiti manualmente cioè tutti i pezzi, c'è qualche scatola di montaggio ma per lo più sono tutte navi costruite tirando fuori dai disegni originali viene riprodotta proprio la barca come dovrebbe essere insomma ecco, questo è un po' il nostro gruppo dopodiché in sede che è in via Traversagno 29 a Ferrara dove abbiamo la sede praticamente tutte le domeniche tutte le domeniche mattine dalle 9 di mattina fino a mezzogiorno e mezzo poi dipende se c'è l'affluenza anche di più abbiamo il museo aperto quindi dove uno può venire può trovare le macchine di Leonardo i sommergibili, dei peschereggi delle navi da crociera dei taxi veneziani tutta una serie di barche mezzi militari anche quelli abbiamo mezzi militari dove abbiamo dei modelli in sede che hanno vinto dei campionati mondiali ed è stato successo per le giornate FAI di Primavera 2023 che nel weekend hanno coinvolto tanti cittadini alla scoperta dei loro territori e in particolare a Ferrara tra i luoghi aperti per l'occasione c'era anche Palazzo Ducales del municipio con percorsi inediti all'interno dell'edificio ad accompagnare cittadini e turisti gli studenti delle scuole ferraresi della Leotti e del Ruiti formati per l'occasione in apprendisti ciceroni li vediamo Io mi chiamo Mari Joanne Sofia Mazzacurati Scuola? Siamo del liceo scientifico Antonio Roiti Quarta G Veni Culturali Dove ci troviamo? Allora qua siamo nelle stanze nobili del Palazzo Ducale in stile rinascimentale con le decorazioni volute da Ercole I d'Este qua siamo nella stanza dorata infatti prende il nome dalle rosette presenti sul soffitto Che cos'altro racconterete al gruppo che sta arrivando? Allora la Camera Dorata è stata fatta tra il 1472 e il 1481 per volere di Ercole I d'Este e nelle piantine del 1600 il Palazzo Ducale era suddiviso in due piani il piano terra e il piano superiore mentre a partire dalla fine del 1700 troviamo la presenza di un piano ammezzato Nome? Giovanni Cavallini Davide Lolli Studenti del? Liceo Roiti Classe 4a G dell'indirizzo beni culturali Allora oggi voi avete un compito in realtà siete ciceroni primo anno? Sì sì primo anno Sì sì è il primo anno anche per me Che cosa avete raccontato questo gruppo che sta adesso andando in un'altra parte del comune? Insomma abbiamo raccontato del tentativo di una congiura sventata per fortuna nel 1476 il primo settembre tra Nicolò sostenitore e Ercole primo secondo scusate Ducca Estense Significa studiare la storia? Sì studiare ciò che c'è all'interno dei saloni la storia appunto dei saloni e Com'è? È bello? Ah sì devo dire che a me piace Questa è un'esperienza che vi formerà anche in un futuro cosa da grande cosa vorrei fare? Di preciso non ho ancora un'idea di quello che vorrò fare però sicuramente è un'opzione Sì sicuramente ammetto che ci insegna molto soprattutto ci butta dentro al mondo del lavoro secondo me alla fine questo è un piccolo impiego per queste due giornate E terminiamo il nostro tv giornale segnalandovi gli ospiti di oggi pomeriggio di musica maestro quando troverete Davide Salvi e la sua cantante Brunella Gersi Davide Salvi bravissimo fisarmonicista della provincia di Bologna grande appassionato dell'indimenticato maestro Carlo Venturi è stato il più giovane capo orchestra d'Italia avendo fondato a soli 15 anni la sua prima formazione anche oggi Salvi si esibisce in tutta Italia e anche all'estero in particolare in Francia vi ricordo che musica maestro in onda alle 17.45 su Telestense per quello che riguarda invece il tv giornale come sempre l'appuntamento rinnovato alle 19.30 ma vi segnalo come sempre ulteriori aggiornamenti su telestense.it e sui nostri canali social grazie dunque per averci seguito come sempre e a tutti buon proseguimento di giornata